Il Forever Aloe Beats and Peaches con numero d'articolo 77 è stato anche la prima bevanda di Forever che ho provato. Contiene il 92% di pura polpa di aloe vera e un 1% di pezzetti della polpa della foglia. Infatti le lunghe fibre presenti lungo l'intera foglia contribuiscono alla sua stabilità. I pezzetti derivano quindi dall'aloe, non dal concentrato di pesca utilizzato. Quest'ultimo contribuisce al gusto delizioso che piace così tanto ai bambini, che poi sono loro stessi a chiedervelo. Per un apporto ancora più intenso di fibre l'aloe Beats and Peaches di Forever può essere ben combinato con questi prodotti. Il Fields of Greens, articolo numero 68, e l'Absorbent C, ricco di vitamina C, con l'articolo numero 48, per acquistare vigore e vitalità. Qual è insomma la vostra combinazione preferita? Parlatene con il vostro sponsor o con i compagni di squadra. La conoscenza è l'unica ricchezza che aumenta se la si condivide. Ricapitoliamo in breve gli argomenti a favore del Forever Aloe Beats and Peaches. Contiene il 92% di aloe vera, con dei grandi pezzi extra di polpa di foglie di aloe vera. Piace anche ai bambini e con ciò è un'alternativa al succo aloe numero d'articolo 15, dal sapore molto salutare. È una bevanda sana da gustare anche prima di andare a dormire. Vi auguriamo buon appetito!